cari amici di visione tv benvenuti ad un nostro nuovo approfondimento è tornato a trovarci l'amico giornalista franco fracassi giornalista naturalmente scrittore scrittore no così scrittore prolifico perché anche oggi franco è venuto da noi a presentare un suo libro facciamo vedere la copertina del libro di franco fracassi scritto con noi gli annutti morte dei paschi dal suicidio di david rossi ai risparmiatori truffati ecco chi ha ucciso la banca di siena ecco prefazione di luigi di maio e daniele pesco ecco non so se è un omonimo quel di maio se è proprio lui il ministro degli eseri in ogni caso anche troppo c'è una notizia di maio scrive prego franco purtroppo è lui aggiungo io allora questo libro in realtà risale a qualche anno fa il punto è che è di grande attualità per due motivi il primo è perché la vicenda di david rossi è ritornata diciamo a farsi ad apparire nelle cronache dei giornali e anche di alcune trasmissioni televisive perché il il commissario diciamo il questore che gestiva le indagini quando è apparso davanti alla commissione di inchiesta sul monte dei paschi ha raccontato che il magistrato uno dei magistrati che si occupava di queste indagini ha alterato le prove e ne ha fatte sparire alcune diciamo una cosa inaudita gravissima per quanto riguarda un magistrato che il magistrato che ha archiviato ogni volta la vicenda del suicidio di david rossi ma questa qual era la procura che indagava su questo storio quella di siena e sulla procura di siena si sono accesi riflettori di una procura competente di indagare sui magistrati di siena certo quella di la di la spezia credo che sia quella competente è ancora in corso l'indagine sui magistrati che hanno non vorrei sbagliarmi non vorrei sbagliarmi una delle due sono ancora in corso le indagini sui magistrati che hanno archiviato e certo soprattutto dopo le rivelazioni del del questore di siena prego prego quindi il questore di siena ha detto che hanno il questore di detto di siena ha detto che hanno inquinato le prove prego prego franco interessante e il il secondo punto per cui è secondo me importante parlare oggi di questa vicenda è che la distruzione del monte paschi ha un uomo al centro e che il quest'uomo al di là del presidente giuseppe mussari la cui diciamo responsabilità è stata già acclarata in tutte quante le sedi c'è un altro uomo che di cui non si parla mai che però è il vero distruttore di quella banca e sarebbe mario draghi allora draghi nel 2008 quando il monte dei paschi si stava espandendo e cercava di in qualche modo di fare come fanno le altre grandi banche mondiali cioè mangiarsi altre banche diventare qualcosa di diverso quello che era fino a quel momento ovvero una banca molto presente sul territorio diventare una vera e prova holding internazionale mario draghi a quell'epoca ricopriva due ruoli il primo ruolo e il ruolo era il ruolo di governatore della banca d'italia in quanto governatore della banca d'italia protettore delle nostre banche custode della salvaguardia delle nostre banche il secondo ruolo era quello di presidente del financial stability forum è una un organismo internazionale che non conosce quasi nessuno ma è uno dei più importanti che esistano fu fondato negli anni 30 dal dai nazisti e e lo scopo di questo organismo in realtà loro lo fondarono per riuscire a diciamo gestire le loro finanze senza che apparisse il nome delle banche delle industrie naziste dei personaggi del terzo reich quindi in maniera un po così anonima in realtà questo istituto si è trasformato nell'istituto che regola e ci protegge tutti quanti dalle crisi sistemiche esattamente quelle che poi sono accadute periodicamente negli ultimi anni soprattutto quella del 2008 quando fallì la Lehman Brothers bene draghi era pagato per fare un'unica cosa non far non creare una crisi sistemica cosa che invece avvenne sotto il suo ehm sotto la sua gestione e da qui ovviamente emerge tutta la bravura di draghi ehm che può essere vista in senso ironico nel senso che una persona deve fare solamente una cosa e quella cosa non riesce a farla perché sotto il suo naso si sviluppa la più grande crisi della storia mondiale dal punto di vista finanziario ed economico eh oppure eh in senso letterale perché era esattamente quello che voleva draghi perché questa crisi poi ha generato immense ricchezze e vantaggi per i suoi amici ehm il ehm draghi non solo permise il crack di enormi banche società assicurazione e quant'altro negli Stati Uniti e quindi l'inizio della grande crisi finanziaria del 2008 ma non contento eh riuscì a trasferire questa crisi anche in Europa portandoci diciamo ehm eh portando nel disastro eh le nostre economie in particolare quella italiana come fece eh c'era una banca ehm olandese che si chiamava ABN AMRO una banca enorme la quinta la quinta banca mondiale che era in enorme difficoltà era in difficoltà per un motivo perché questa banca aveva acquistato qualche anno prima una banca italiana si chiamava banca Anton Veneta era un vero e proprio buco nero questa questa banca Anton Veneta che risucchiava chiunque ne diventasse proprietario e quindi ABN AMRO era in difficoltà allora Draghi da presidente del Financial Stability Forum impone alle principali banche europee di fare un'operazione di acquisto dell'ABN AMRO ovvero la Royal Bank of Scotland che era la seconda banca europea per importanza eh doveva acquistare un pezzo dell'ABN AMRO la parte che riguarda l'Olanda il Regno Unito perché immaginate l'ABN AMRO una una holding che posteva decine di banche differenti il eh Fortis che è la principale banca del Belgio doveva acquistare un altro pacchetto di banche eh un'altra percentuale e Banco Santander che è la più grande banca d'Europa una banca spagnola doveva acquistare la parte che riguardava le banche di proprietà della BN AMRO sudamericane e italiane eh allora eh le Fortis Fortis e Royal Bank of Scotland non fecero nessuna obiezione Banco Santander invece pose un problema dicendo sì ma io mi prendo il 17% del 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 ABN AMRO ma in questo 17% c'è il buco nero ovvero Banca Anton Veneta e visto che non lo voglio fare perché io non voglio fallire eh mi dovete trovare si rivolge ovviamente a Draghi mi dovete trovare un eh un fesso che si prenda Banca Anton Veneta al posto mio ehm Draghi si rivolge a alcuni personaggi della finanza cattolica italiana e loro individuano il fesso ovvero Giuseppe Mussari presidente del Monte dei Paschi di Siena eh avviene una telefonata che ha è stata cronometrata perché esistono le registrazioni quindi si sa anche che cosa si sono detti in questa telefonata una telefonata che è durata poco meno di cinque minuti e la telefonata è intercorsa tra il eh l'amministratore delegato eh di Banco Santander e e Mussari appunto del Monte dei Paschi ehm Botin che è l'amministratore delegato di Banco Santander chiama Mussari e gli dice senti c'è questa banca ve la dovete comprare cioè senza mezzi termini eh tu sei disponibile a comprarti questa banca e lui Mussari sul momento dice beh sì potrebbe essere interessante Mussari non sapeva proprio di che cosa gli stesse parlando perché per sua stessa ammissione non ci capisce nulla di finanze e di banche l'ha detto Mussari stesso e ehm al che eh quindi era l'uomo perfetto per guidare la terza banca italiana al che ehm Botin gli dice sì ma tu mi devi comprare questa banca al prezzo che dico io senza eh fare la due diligence della banca ovvero senza sapere che cosa eh che cos'è questa banca e come acquistare una casa eh in eh al prezzo che decide il il venditore senza 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 nessun tipo di trattativa senza vederla senza visitarla senza vedere nemmeno le planimetrie senza sapere eh dove si trova esattamente eh senza sapere se questa casa ha delle ipoteche eh su di essa senza sapere se ehm questa diciamo tutti quanti i condoni sono a posto eccetera 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 io credo che nessun essere senziente acquisterebbe mai una casa del genere bene Mussari l'ha acquistata nei cinque minuti di telefonata perché Botin gli ha detto o te la prendi entro questi cinque minuti oppure non te la vendo più. Monte dei Paschi si è si è accollato banca Anton Veneta per la felicità di tutti quanti perché in questa maniera si poteva svolgere l'operazione eh pensata da Draghi ehm a BN Amro pagandola diciassette miliardi di euro cioè il Monte dei Paschi ha pagato una banca che non solo non valeva nulla ma era un buco nero che l'avrebbe affossata l'ha pagata diciassette miliardi di euro. Draghi oltre a essere il presidente del Financial Stability Forum dicevamo era anche governatore della Banca d'Italia ovvero la persona che doveva preoccuparsi della salute anche di MPS e lui aveva perché è accertata questa cosa lui aveva letto il rapporto che gli ispettori della Banca d'Italia avevano fatto a Banca Anton Veneta e in questo rapporto c'è scritto che Banca Anton Veneta era una banca decotta. Bene Draghi ha apposto la sua firma per questa operazione cioè ha permesso questa operazione perché lui aveva bisogno di fare quell'altra operazione. Allora quell'altra operazione cos'è che ha portato? Quell'altra operazione ha portato che nel giro di due anni Royal Bank of Scotland è fallita ed è stata accostretto il Regno Unito a tirar fuori una quantità mostruosa di denaro per statalizzarla perché sennò andava a gamba all'aria anche tutta l'economia britannica. Fortis è fallita ed è stata statalizzata. Banco Santander è l'unica banca che non è fallita perché al posto suo ha fatto fallire il Monte dei Paschi con tutti i problemi che ha creato. Quindi in sostanza Draghi ha fortemente voluto un'operazione che ha distrutto il sistema bancario europeo mettendo in ginocchio l'economia europea. Ma questa operazione è stato il preludio di un'altra operazione perché a questo punto il Monte dei Paschi si è trovata con i debiti fino al collo. Non sapeva come pagare queste cose anche perché non aveva i soldi per acquistare, non aveva i 17 miliardi per acquistare Banca Anton Veneta e quindi questi soldi si aveva fatti prestare. Il problema del Monte dei Paschi è uno, ovvero Monte dei Paschi ha, almeno aveva una fondazione che era proprietaria della banca, era costruita così il Monte dei Paschi. A questa fondazione arrivavano dei soldi perché in quanto proprietaria gestiva la maggioranza del pacchetto azionario. Questi soldi erano i soldi che la fondazione spargeva per tutta la provincia di Siena per le proprie clientele, non saprei, l'università, la squadra di basket, la squadra di calcio, i politici locali, eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa le poteva fare solo se Monte dei Paschi aveva un bilancio inattivo. Se il bilancio era in passivo non arrivava un soldo, le clientele finivano. Visto che tutta la politica attingeva al Monte dei Paschi, per tutto intendo dalla Lega fino al PD, tutti quanti, c'era necessità che il bilancio fosse inattivo e a quel punto si presentano due banche, una banca giapponese Namura e una banca tedesca, la Deutsche Bank, che propongono a Mussari, sempre a sua detta che non capiva un fico secco di finanza e di banche, presentano due derivati, due contratti derivati che sono anche molto complicati da comprendere quando li vai a leggere e Mussari non li aveva compresi, però li aveva firmati lo stesso, perché questi contratti derivati permettevano alla banca di avere il bilancio inattivo, fermo restando, che nel frattempo gli rodevano i soldi e la Monte dei Paschi ha incominciato, come se si fosse messa in mano uno strozzino, a essere sempre più indebitata, sempre più indebitata. Deutsche Bank in particolare aveva chiesto al Monte dei Paschi una garanzia per la firma di questo contratto derivato, dice io ti do i soldi ma tu mi devi dare una garanzia e questa garanzia sono tutti i titoli di Stato italiani che detieni. In altre parole il Monte dei Paschi aveva 4 miliardi di titoli di Stato italiani, li ha ceduti a Deutsche Bank come garanzia. Nel luglio del 2011 senza nessun motivo, perché non c'era nessun motivo economico, finanziario, politico, nessuno, Deutsche Bank in un giorno mette in vendita tutti e 4 miliardi di titoli degli Stati italiani. Boom! Tutto insieme. Questa cosa, probabilmente molti di voi se lo ricorderanno, provocò un vero e proprio terremoto finanziario in questo paese. Lo spread salì alle stelle, ma salì alle stelle non perché improvvisamente l'economia andava male, perché andava più o meno sempre nello stesso modo, salì alle stelle, perché se Deutsche Bank, che è una delle più grandi banche del mondo, vende improvvisamente tutti i titoli che ha in pancia, sono un sacco di soldi, di un paese, tutti gli altri operatori, grandi operatori finanziari, incominciano a pensare, beh, se Deutsche Bank ha fatto questa operazione forse c'è qualcosa sotto. Quindi tutti hanno incominciato a vendere e questo ha messo in ginocchio l'Italia. Allora io ho fatto un lunghissimo discorso per farvi capire come sono accadute molte delle cose che hanno distrutto socialmente e economicamente questo paese, che hanno avuto come centro il Monte dei Paschi e hanno avuto come regista di queste operazioni inconsapevole e quindi inetto, oppure consapevole e quindi molto capace a fare queste operazioni sporchissime. Mario Draghi. Senti Franco, la panoramica come al solito è precisa e documentata, ma rimane sullo sfondo di questa storia tragica per le sorti del paese questo cadavere, di questo Davide Rossi. Ora, alla luce delle cose che tu hai detto, chi aveva interesse ad uccidere questo Rossi? Perché questo Davide Rossi è agli occhi di alcuni personaggi che magari hanno gestito questa vicenda, più rassicurante da morto che da vivo, cosa poteva dire, cosa poteva fare, cosa sapeva, cosa centrava nella preparazione di queste operazioni? Davide Rossi. Allora, Davide Rossi era il capo della comunicazione della banca, quindi apparentemente una persona innocua, cioè era quello che sostanzialmente corrompeva i giornalisti, mettiamola così. Non è che ci volesse molto, non è che ci volesse tantissimo. Un grande corruttore di giornali e giornalisti, insomma questo faceva... Ecco, dico, però con i giornalisti di oggi basta il cesto di frutta, vabbè comunque, prego. Però corrompeva anche i giornali con milioni di euro a botta, giornali e televisioni, ma in realtà era molto altro, perché lui era molto legato a Mussari, cioè il presidente della banca, e lo seguiva in tutte quante le sue vicende, cioè Rossi era quello che sapeva tutto, Rossi aveva seguito con tutti i dettagli, passo passo, tutte queste vicende che vi ho raccontato del Monte dei Paschi, che hanno a che fare con Banca Anton Venere, che hanno a che fare con Banco Santander, che hanno a che fare con questa operazione internazionale, che hanno a che fare con i derivati a Deutsche Bank e Nomura, che hanno a che fare con il crack, la crisi monetaria dello Stato italiano, ma Rossi e molte altre cose, perché il Monte dei Paschi, tra le tante operazioni diciamo normali che può fare una banca, faceva anche cose che una banca teoricamente non dovrebbe fare, come il riciclaggio dei soldi, in particolare dell'Andrangheta, c'era un personaggio dell'Andrangheta che tutte le settimane si presentava nel Monte dei Paschi con una valigetta piena di denaro, questa valigetta veniva trasportata, come facevano gli spalloni di una volta, fisicamente in Svizzera. E da dove si evince questo interessamento dell'Andrangheta al Monte dei Paschi? Chi era quest'uomo? Chi era quest'uomo non si sa, però ci sono testimoni che raccontano di questa cosa e ci sono un paio di avvocati legati al Monte dei Paschi, che erano ovviamente a conoscenza di questa cosa qui, di cui non posso purtroppo dire il nome, per loro protezione, che hanno raccontato queste cose. Erano in contatto con Mussari, perché Mussari se non ricordo male era pure lui di origine calabresa, è di origine calabresa. Esattamente, erano in contatto con Mussari, ma Rossi si occupava di queste cose spicce. Ecco, dico, ma Mussari aveva contatti diretti con alcuni uomini di contorno dell'aria grigia che si tocca con l'Andrangheta? O Mussari non c'entra in questa operazione? No, in questa operazione c'entra sicuramente Rossi, perché Rossi era l'uomo che raccoglieva questa valigetta, noleggiava un'auto, anzi andava con la sua auto fino a Mantua, non vorrei sbagliarmi, a Mantua e a Cremona, lì noleggiava una seconda auto e andava in Svizzera. Era una cosa che faceva tutti quanti i mesi. Poi c'era un altro punto, il Monte dei Paschi era, non so se lo sia ancora, ma fino a qualche anno fa era considerata nella lista delle banche armate. Che cosa sono le banche armate? Le banche armate sono le banche che garantiscono attraverso fidei e usioni il traffico di armi. Allora, la maggior parte del traffico di armi, cioè la vendita di armi, è esattamente come la vendita di qualsiasi altro bene, nel senso io ho dei cari armati, li vendo lecitamente a chi mi pare, perché sennò non esisterebbero nemmeno le fabbriche di armi, e c'è una banca che di solito garantisce che questa partita di armi arrivi effettivamente al paese che l'ha acquistato e il paese che l'ha acquistato paghi. Diciamo, questo è il meccanismo, è un meccanismo che funziona anche se io acquisto, non so, acciaio, se acquisto legno o qualsiasi altra cosa. E vale anche per le armi, però esistono alcuni tipi di vendita di armi che non sono leciti, perché non si possono vendere a chiunque le armi lecitamente. Se io vendo armi a un paese dove c'è la guerra civile o a un paese in guerra, non lo posso fare perché con queste armi si alimenta questa guerra. Bene, il Monte dei Paschi era la banca che garantiva la vendita di tutte le armi, a tutte quante le fazioni, della guerra civile siriana. In altre parole, se il Monte dei Paschi non fosse garantito o avrebbero dovuto trovare un'altra banca, oppure dopo qualche mese avrebbero cominciato a prendersi a clavate perché non avevano più né armi né munizioni per combattersi e quindi la guerra civile non sarebbe magari durata sette, otto anni come durata. Rossi era a conoscenza anche di queste cose, Rossi era a conoscenza di tutto. Allora un bel giorno, David Rossi, perché lui era molto prestato dai magistrati per varie vicende, insomma vari scandali che hanno coinvolto il Monte dei Paschi, tra cui questo qui dei derivati, e un bel giorno David Rossi scrive all'amministratore delegato della banca Viola, che in quel momento si trovava a Dubai, gli scrive un'email e gli dice non ce la faccio più, adesso vado ai magistrati e gli racconto tutto. Passano 48 ore e Rossi si ritrova steso, spiaccicato sul selciato davanti, anzi sul retro della banca. Senti Franco, rispetto alla dinamica della morte di quest'uomo, qualcuno ha studiato nulla, sa se poteva cadere in quel modo, sa se è un suicidio simulato, si sa niente rispetto al realismo della dinamica per come è stata studiata dagli inquirenti. Allora non poteva cadere in quel modo, lo hanno detto tutti quanti gli esperti di questa cosa, non poteva assolutamente cadere in quel modo, aveva la testa spaccata da un oggetto che si trovava all'interno del suo ufficio, che era pieno di sangue, c'era stata una collottuazione insufficio, ci sono delle persone che entrano nel vicolo, si vedono dalle immagini, entrano nel vicolo dove stava steso il cadavere di Davide Rossi e non chiamano la polizia ma fanno altri tipi di chiamate e così via. Ma c'è un particolare che è molto inquietante. Allora, Rocca Salimbeni, che è la sede centrale del Monte dei Paschi a Siena, è ovviamente circondato e anche al suo interno ha centinaia, decine e centinaia di telecamere. Quindi chiunque entra alla banca si può seguire passo passo al suo interno, quindi sapere chi è entrato nel suo ufficio, per esempio. In più ci sono tutte quante le telecamere esterne. Allora, di tutte quante queste telecamere, quando gli inquirenti vanno a sequestrare il materiale video, non trovano nulla. Non c'era una sola immagine. Domanda, dove sono le immagini? Risposta, blackout. Per un quarto d'ora abbiamo avuto un blackout. Funzionano sempre, ma l'unico quarto d'ora nella storia del Monte dei Paschi in cui c'è stato il blackout è quello in cui Davide Rossi vuole dalla finestra. Quindi non si sa chi è entrato, non si sa che cosa è successo dentro l'ufficio, non si sa che cosa è successo dopo. Poi che accade? Un anno dopo, su un giornale online, sul Washington Times, che è il secondo giornale di Washington, quindi stiamo parlando di un giornale che sta dall'altra parte dell'Atlantico, in un altro paese molto distante a noi, viene pubblicato sul sito di questo giornale un video, che è il video che abbiamo visto, non so se tutti, quantomeno molti di noi, dove si vede Rossi che cade e si, diciamo, cade sul selciato dietro a Casalimbeni e poi la lentagonia che ha portato alla morte di Davide Rossi. Allora, alla domanda al Washington Times, perché è bizzarro che il suicidio di un manager italiano venga mostrato in un video che era sparito, che era sparito anche agli inquirenti, improvvisamente un anno dopo viene mostrato in un video da un giornale a cui, diciamo, della morte di Davide Rossi non gliene frega assolutamente nulla, perché ai lettori di Washington o degli Stati Uniti, che sia morto, suicida oppure meno un tizio che cade da una banca italiana, veramente non ha nessun tipo di interesse giornalistico. La risposta del giornale, del Washington Times, è stata il video, ce l'ha dato la CIA. Allora, muore Davide Rossi, spariscono tutti i video di tutte quante le telecamere di Rocca Casalimbeni e dopo un anno la CIA, quindi la Central Intelligence Agency, lo spionaggio, il controspionaggio degli Stati Uniti America, se ne esce col filmato. Ma che c'entra la CIA con Davide Rossi? E perché alla CIA interessa questa cosa? Perché la CIA improvvisamente vuole che si veda quel filmato, ma solo quel filmato, non altri, però che si veda quel filmato e si capisca che Davide Rossi, da quel filmato si capisce benissimo, non è morto, suicida. Ma la procura, diciamo, nonostante questo, ha cercato di... Franco, la procura di Siene invece ha cercato in tutti i modi di far passare l'idea di una morte, come dire, volontaria, di un suicidio. Esattamente, esattamente. E ha archiviato la cosa. Senti, Franco, tu prima hai fatto riferimento a alcuni passaggi della finanza cattolica, però il nome di Mussari è stato sempre legato alla massoneria, in particolare alla Grande Oriente d'Italia, e poi Siena non è una città qualsiasi, è la città del gran maestro del Grande Oriente d'Italia, Bisi. Non so, c'è un po' un odore di massoneria in tutta questa storia o non c'è? C'è tanto odore di massoneria, c'è così tanto odore di massoneria che dopo un altro po' di tempo l'avvocato della famiglia di Rossi riceve una telefonata e questa telefonata è da parte di un tizio anzi, è da parte di una donna che sostiene di chiamare per conto di Francesco Pazienza Allora, io non so quanti di voi sappiano chi è Francesco Pazienza Francesco Pazienza è un uomo particolare, un uomo che insomma, lui dice di avere lavorato col sismi poi di essere stato allontanato dal sismi, sembra che sia andato in giro abbia scritto dei libri pure su Di Pietro, su quello che era il suo vero ruolo al tempo di Mani Pulite insomma, vantava legami con il mondo dei servizi atlantici Ora, non so se è una via di mezzo tra un millantatore e un mitomane è una cosa invece un uomo che sa delle cose era il braccio destro di Ciogelli era un, dopo Ciogelli era il vero boss della loggia P2 ed era un personaggio così importante anche perché fu l'uomo che lui proprio, grazie al suo operato Ronald Reagan venne eletto presidente degli Stati Uniti era così tanto protetto dagli Stati Uniti che c'erano ben tre mandati di cattura internazionale tra cui quello di depistaggio della strage di Bologna cioè stiamo parlando di cose serie quando si parla di pazienza di depistaggio della strage di Bologna che nonostante questi mandati di cattura internazionali di pazienza ha vissuto tranquillamente a New York passeggiando per la strada e incontrando chiunque rilasciava pure interviste e le autorità americane non gli facevano nulla perché ha protetto dalla Casa Bianca cioè stiamo parlando di uno dei personaggi più potenti almeno che c'erano in circolazione è sicuramente un massone di altissimo grado allora pazienza chiama la famiglia di David Rossi dicendo io ho molte informazioni che riguardano la morte di David dopodiché l'incontro non si è mai fatto perché la famiglia non è voluta andarla a incontrare ma lui l'offerta l'ha fatta ed è assurdo in una situazione del genere che si presenti un personaggio come pazienza perché ripeto David Rossi era un irresponsabile della comunicazione di una banca che si suicida ma che gliene frega pazienza di questo personaggio che gliene frega la scia di questo personaggio qui fa capire il mondo in cui ci muoviamo quando si parla di Monte dei Paschi e quando si parla di David Rossi che è un mondo molto 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 più grande di quello che viene raccontato anche ultimamente da media con i festini, cose omosessuali cose di questo genere che magari saranno pure estate ma non si fa tutto quanto questo casino la scia e pazienza e la P2 non entrano in campo per un festino omosessuale insomma è tutt'altro livello si sta parlando di un livello altissimo perché poi ho scoperto un'altra cosa andando a indagare sulle su questa gigantesca operazione anzi queste due gigantesche operazioni la prima quella dell'acquisto di Banca Antonmeta all'interno della spartizione di ABN Amro è quella dei due dei due derivati che poi hanno portato al crollo finanziario ed economico dell'Italia con il commissariamento d'Italia vi ricorderete la lettera della Troica eccetera 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 ho scoperto che ci sono ben altre nove persone nel mondo che sono morte a causa di questo altre nove persone i morti sono dieci Davide Rossi è solamente uno di questi sono tutte morte suicide tutte e tutte morte suicide in maniera assurda ci sono due persone che sono suicidate impiccandosi con la cinta della propria del proprio pantalone uno si è impiccato a una ringhiera che era alta diciamo così e quindi si è dovuto impiccare tutto per storto e hanno trovato intorno al suo cadavere tutte le carte che riguardavano i derivati che Deutsche Bank aveva dato aveva rifilato al Monte dei Paschi c'è addirittura una persona in Giappone che si è suicidata lanciandosi all'ora di pranzo queste qui erano tutte persone che ovviamente avevano una vita normale cioè questo che si era impiccato doveva giocare una partita di tennis mezz'ora dopo che aveva prenotato il campo da poco cioè nessuno aveva voglia di suicidarsi nessuno ha lasciato lettere questo questo dirigente giapponese si è suicidato doveva andare a pranzo con i colleghi ha detto aspettate un attimo adesso arrivo perché si è lanciato dall'ufficio del suo palazzo il problema è che questo suo palazzo non ha le finestre quindi è complicato cioè ha i vetri ma insomma i classici grattacieli che hanno i vetri ma non si aprono quindi è decisamente complicato riuscire a lanciarsi da un palazzo dove dove non ci sono finestre uno dice vabbè se è lanciato dal dal tetto a parte che non l'ha visto nessuno salire sul tetto ma il tetto era chiuso a chiave e lui non aveva le chiavi e non hanno trovato forzato questo tetto quindi è una cosa misteriosa fatto sta che l'hanno trovato anche questo spiaccicato ai piedi del suo grattacielo e così via ci sono c'è una morte dietro l'altra e la cosa incredibile che queste persone si conoscevano tutte tra di loro cioè tutte conoscevano davidrossi e tutte quante si conoscevano tra di loro e incomincio davidrossi è il primo di questi morti incominciano a morire uno dopo l'altro e mano a mano che muoiono loro si scrivono sempre con maggior orrore dicendo è morto pure lui è morto pure lui dobbiamo stare attenti che cosa dobbiamo fare e piano piano si suicidano tutti quanti dai vari giudici magistrati sparsi per il mondo sono stati dichiarati morti per suicidio insomma è una storia inquietante speriamo che anche questo tuo lavoro aiuti gli inquirenti a districarsi dentro queste storie però ogni volta che ci sono uomini diciamo molto potenti al centro delle indagini spesso le archiviazioni arrivano nonostante la stravaganza di alcune prese di posizione giudiziarie grazie a Franco Fragassi per essere stato con noi facciamo rivedere il libro in conclusione eccolo qui morte dei paschi di Franco Fragassi con Elio volevi aggiungere qualcosa in conclusione Franco no intanto volevo aggiungere che per avercelo dovete scrivermi un'email a francofragassi1 chioccia gmail.com secondo poi io trovo deprimente e anche molto mi fa veramente rabbia il fatto che l'uomo che ha provocato tutto questo dolore possa diventare a breve il nostro presidente della repubblica il garante di tutti quanti noi e trovo questo veramente deprimente il fatto che l'intera classe giornalistica italiana fa finta di nulla si gira dall'altra parte e non indaga mai al massimo da retta e dei pistaggi come qualcuno fa riguardo la morte di Davide Rossi parlando di festini omosessuali grazie a Franco Fragassi prego ciao amici di Visione TV si conclude qui questo nostro nuovo approfondimento aiutate Visione TV a rimanere in piedi abbiamo bisogno del vostro sostegno che ci potete garantire con bonifico con Paypal oppure abbonatevi sul nostro sito www.visionetv.it grazie a tutti voi una buona giornata a di Grazie a tutti.